Ciao, bentornati sul mio canale. Dunque, in questo video voglio parlarvi del segreto per condividere efficacemente l'opportunità di vivere la vita più sana con Duterra oppure anche l'opportunità lavorativa con Duterra come consulente del benessere con gli oli essenziali. È qualcosa a cui io sono arrivata con il tempo. Non è stato sinceramente il mio primo approccio e devo dire che il mio primo approccio, che fondamentalmente è sbagliato ha portato a pochi risultati all'inizio ha generato molta frustrazione in me quando poi ho scoperto che è la cosa più comune che tutti fanno come errore e che invece ci sono dei modi migliori per affrontare la condivisione senza sembrare dei venditori, senza sembrare pazzi o che si vogliono convincere apposta le persone. Ho risolto questo problema ascoltando i podcast di una persona fantastica della mia upline cioè di una persona iscritta molto prima di me che grazie a lei ha permesso a me di iscrivermi e vi vorrei davvero parlare un attimo di questa persona che è fantastica. Si chiama Teresa Harding ha un canale YouTube ha tanti gruppi su Facebook è una persona meravigliosa ed è tra le fondatrici di Duterra adesso è tipo Tripla Presidential Diamond che non esiste niente di più alto di questo e se lo merita tutto e sono felicissima di far parte della sua downline mi sento molto molto privilegiata. Lei organizza, oltre a fare tanti corsi su YouTube fa anche dei podcast e in questo podcast che ha fatto se vi interessa vi metto il link sotto commentatemi se lo volete che io seguo con tanto piacere dice una cosa fondamentale keep it simple mantieniti semplice falla semplice e in particolare dice questo l'errore più grande che si commette quando ci si appassiona di oli o ci si appassiona dell'aspetto business o di entrambe le cose è che studiamo tantissimo leggiamo tutto guardiamo un sacco di video ascoltiamo tutti i podcast del mondo ci informiamo un sacco diventiamo dei fanatici della teoria sappiamo tutto di tutto e quando parliamo con le persone inevitabilmente vogliamo condividere tutto quello che abbiamo imparato con loro e le sommergiamo letteralmente di nozioni ma pensate a questo quando voi vi siete iscritti avete deciso di diventare consulenti o semplicemente avete deciso di provare gli oli nella vostra vita cosa è stato a convincervi? non credo che qualcuno vi abbia convinto perché vi ha riempito la testa di aspetti tecnici giusto? Teresa Harding parla di quella che è l'epifania ed è quello di cui vorrei parlare in questo video l'epifania è quando provi dentro di te un'emozione che ti fa suscitare un pensiero che ti fa dire ah, lo voglio fare ne ho bisogno fa per me e questo è qualcosa che non lo puoi trasmettere alle persone se non trasmettendo la tua epifania quindi pensate un attimo a che cosa vi ha veramente portato a diventare cliente a usare gli oli a voler fare la consulente a usare gli oli giusto? ho scritto anche ho fatto anche un video su questo conosci il tuo perché giusto? ma parliamo più approfonditamente di che cosa che cosa ha fatto traboccare il vaso che cosa qual è stata quella goccia che vi ha fatto dire ok, lo faccio per me personalmente ce ne sono state anche più di una ma a un certo punto mi sono detta ho davvero bisogno di intraprendere un percorso per stare bene e per arricchire la mia vita di qualcosa di efficace naturale sano ed energetico ho davvero bisogno di poter contare su di me e sulla mia informazione personale sul coltivare una mia passione per condividere benessere su di me e sugli altri e quello che mi ha fatto scattare la scintilla per diventare consulente è stato oh mio dio io non voglio lavorare 50 anni nello stesso posto sempre con la stessa paga con la stessa mansione o con poca differenza di paga e di mansione senza sentirmi voglio dire stimolata a fare di più e ritribuita per i miei meriti giusto? la maggior parte dei lavori che noi abbiamo non ci consentono tanta libertà di iniziativa tanto spirito di imprenditoria e soprattutto non ci consentono di accedere alla libertà finanziaria che vogliamo quello che facciamo è barattare il nostro tempo per soldi per una quantità di soldi minima e soprattutto vale davvero così il nostro tempo voglio dire sto 40 ore a settimana in un posto a fare sempre le stesse cose per quella paga ne vale veramente la pena o ci sono alternative? e mi sono detta ho davvero bisogno di realizzare me stessa da un punto di vista personale ed economico voglio essere in grado di provvedere ai miei sogni alle mie necessità senza per questo sentirmi frustrata dall'avere un lavoro che mi interessa il giusto o che non mi consente di realizzarmi e di esprimermi come al piano delle mie potenzialità quando condividete questa vostra realizzazione questa vostra epifania personale con gli altri sia che gli vogliate proporre gli oli perché sapete che ne hanno bisogno o perché sapete che hanno bisogno magari di un'opportunità lavorativa e che potrebbero essere perfetti per quel lavoro non rovinate tutto riempendogli la testa di cose tecniche e soprattutto dicendogli cosa devono fare non lo fate mai non lo fate mai vi prego perché ci sono passata ed è stato anche brutto perché il mio intento era davvero buono e genuino ma non possiamo scatenare a comando l'epifania negli altri parlategli della vostra esperienza parlategli della vostra epifania e di che cosa vi ha convinto che cosa vi ha portato a prendere questa decisione e aspettate che loro ce l'abbiano non dite mai dovresti fare così può essere la cosa che fa al caso tuo fallo eccetera lasciate che siano loro a farlo piantate un seme magari non germoglierà dopo un'ora magari non germoglierà il giorno dopo ma due o tre mesi dopo ma lasciatelo piantato vedrete degli immensi benefici quando applicherete questa piccola grande dritta da una grande da Teresa Harding che è un modello per me è una persona meravigliosa vi invito a guardarla sul suo canale se sapete l'inglese è meravigliosa vi saluto spero che questo video ti sia piaciuto e lasciami un commento un like o iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto ci vediamo al prossimo video grazie